Sarà un Rocky Horror Picture Show dove c'è questo piccolo elemento livornese che sono io, che sarò il narratore, che vorrei condurvi in questo strano viaggio. È un musical. È un musical, però è un musical, canonicamente, è un genere che è buonista, che alla fine vissero tutti felici e contenti, un musical dove la bella sposa il bello. Questo non è un musical. Allora, qui non ci sono belli. Lo spettacolo, in particolare, del Rocky Horror Picture Show, è questo, cioè la partecipazione del pubblico. Non sognatelo, siatelo. Il personaggio di Frank, proprio, è un personaggio che arriva sulla terra e scopre le bellezze della terra. Fa un gran pastrocchio kitsch di tutto quello che secondo lui è più bello. Non sognatelo, 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 non sognatelo. Non sognatelo, non sognatelo, non sognatelo, non sognatelo, non sognatelo. Non sognatelo, non sognatelo, non sognatelo, non sognatelo. Grazie a tutti.